Sette persone in manette, sostanze stupefacenti e materiale esplosivo sequestrate. Questo il bilancio dell'operazione disinnesco compiuta alla mezza terme dagli agenti della Polizia di Stato. Per gli arrestati l'accusa è di avere progettato gli attentati sventati dalle forze dell'ordine il 2 aprile e il 28 giugno scorso, atti che avrebbero dovuto mettere a tacere un collaboratore di giustizia che avrebbe passato alla Polizia informazioni sulle cosche dell'Ametino. A finire in carcere Roberto Greco, Angelo Anzalone, Giovanni Roberto, Cristian Greco, Francesco Rocca e un giovane di cittadinanza romena, Duro Ionut Pircio. Simone Gabriele invece si trova ai domiciliari. Le agenti del commissariato hanno ricostruito nel dettaglio tutte le fasi di organizzazione, esecuzione degli attentati e di costruzione delle bombe. Attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche sono riusciti a seguire tutti gli spostamenti delle persone coinvolte nel progetto di realizzazione delle azioni criminose. Gli ordini recuperati dalla Polizia ad aprile e giugno contenevano 7 kg di polvere da sparo e bulloni, un potenziale esplosivo che in pieno centro abitato avrebbe potuto causare ingenti danni. Antonio Borrelli, dirigente del commissariato di La Mezzaterme, ha parlato di una cellula impazzita che sta approfittando di questo particolare momento felice vissuto dalla città. Grazie a tutti.